nel novembre del 2020 gli stati uniti a hanno eletto il nuovo presidente joe biden che anche il secondo presidente cattolico degli stati uniti è il secondo che segue a john fincelo al kennedy che fu eletto nel 60 ma è stato joe biden anche il quarto candidato perché ci furono anche le candidature di al smith nel 1928 e di john kerry nel 2004 che vennero sconfitti per motivi che ebbero a che fare anche con il loro cattolicesimo ora joe biden ha vinto il conto di donald trump anche perché ha saputo usare in una maniera scaltra e intelligente il suo cattolicesimo e ha fatto appello a quelle forze culturali e religiose negli stati uniti in cui ora la chiesa cattolica è la singola più grande chiesa del paese quindi è uno scenario molto diverso da quello non solo di al smith di oltre di quasi un secolo fa ma anche di john kennedy ora il libro tenta di studiare alcuni paralleli fra il recessore di joe biden john kennedy e gli altri candidati e di analizzare alcuni paralleli che ci sono tra la polarizzazione politica in questo paese attorno al candidato a joe biden e al suo partito democratico ma anche alcune somiglianze che ci sono tra questa polarizzazione politica e quella religiosa che è emersa in questi ultimi otto anni con il pontificato di papa francesco come è noto papa francesco ha suscitato molti entusiasmi ma negli stati uniti anche ha creato un movimento di opposizione non trascurabile e quindi il pontificato di francesco da una parte ha offerto un elemento di supporto alla candidatura di biden che si è allineato su alcune questioni sociali a papa francesco ma ha risentito anche del carattere divisivo di un pontificato all'interno di una cultura religiosa conservatrice e tradizionalista come quella degli stati uniti quindi il libro analizza alcuni aspetti storici e politici della vittoria di joe biden ma anche che lo inquadra in un momento cattolico religioso ed ecclesiale americano ma anche transatlantico e anche globale e quindi ha qualcosa da dire a dei lettori sia interessati alla storia politica la storia culturale la storia religiosa perché ripeto è solo il secondo presidente cattolico quindi se una cosa succede solo due volte in quasi due secoli e mezzo ha una certa rilevanza ed è importante tentare di coglierne gli aspetti più significativi e unici che possono dire qualcosa della situazione globale anche